Francesco Chiofalo Francesco Chiofalo, commosso, ringrazia per l'affetto ricevuto dopo l'annuncio del tumore al cervello Francesco Chiofalo. Ho un tumore al cervello.Alcuni giorni fa Francesco Chiofalo, il lenticchio di Temptation Island, ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram di avere un tumore al cervello I medici gli hanno detto che nel suo cervello è presente una massa di 5 centimetri che va operata in breve tempo Per questo Francesco dovrà subire un intervento molto lungo e complicato dopo le festività Ovviamente, tra i fan si è diffuso un certo scompiglio e molti si sono mobilitati per fargli arrivare sostegno e solidarietà Francesco Chiofalo su Instagram, non avrei mai immaginato tutto questo amore.Dopo l'annuncio del tumore, molte persone del mondo dello spettacolo e non hanno cercato di far arrivare a Francesco il loro sostegno Sia pubblicamente che in forma privata Francesco ha voluto ringraziare tutti con un messaggio scritto su Instagram, punto non mi sarei mai aspettato tutto questo affetto Grazie per essermi vicino in un momento così triste per me, sono senza parole e non avrei mai immaginato tutto questo amore Francesco Chiofalo, i messaggi di Desiree Maldera e Filippo Bisciglia.Dopo aver saputo la triste notizia, la tentatrice di Temptation Island Desiree Maldera, con la quale Francesco aveva stretto una bella amicizia, ha immediatamente pubblicato un messaggio attraverso una story di Instagram in cui dice di aver ricevuto tutti i messaggi e che per il momento preferisce non disturbare Francesco in una cosa così personale e delicata. Tuttavia, ha voluto esprimere anche tutta la sua vicinanza, punto gli voglio molto bene, se Franci ha bisogno di me io ci sono, sa dove trovarmi, ha il mio numero di telefono Anche il conduttore del programma che l'ha reso popolare ha scritto un lungo e commovente messaggio a Francesco Si tratta di Filippo Bisciglia che, appena venuto a conoscenza dei fatti, ha confessato di aver pianto e di aver sentito il cuore spezzarsi Si è creato un legame che resterà sempre con me ed è proprio per quel legame che oggi sto male pensando a cosa stai provando Sei un guerriero, un guerriero buono che lotterà e ce la farà. Io ci sono per qualsiasi cosa Lotta, ti voglio davvero tanto bene Lotta, ti voglio davvero tanto bene